L'aggiunta regionale su proposta dell'assessore al bilancio Silvio Paolucci ha approvato il rendiconto della gestione 2017 concludendo il percorso di riallineamento contabile avviato a luglio dello scorso anno e che ha visto nell'ordine l'approvazione dei rendiconti 2013, 2014, 2015, 2016 e oggi appunto 2017. Il documento contabile evidenzia un disavanzo di poco inferiore a 552 milioni di euro di cui 163 milioni rappresentano il fondo di accantonamento di liquidità previsto per legge e un saldo di cassa positivo di circa 488 milioni di euro. Il risultato di amministrazione finanziario derivante dalla gestione complessiva dell'ente al 31 dicembre scorso è positivo per 75 milioni di euro e assume un valore negativo per gli accantonamenti di legge per 243 milioni e per l'importo delle economie vincolate a 384 milioni. Dai dati dell'andamento storico dei risultati relativi ai vari esercizi emerge che il disavanzo totale è passato dai 738 milioni del 2013 ai 552 dello scorso anno. Il disavanzo da ripianare al netto delle anticipazioni di liquidità invece è sceso dai 564 milioni del 2013 ai 389 dell'ultimo rendiconto.